L'Italia inaugurerà il nuovo anno spaziale con il lancio del satellite Prisma. Lo scopo della missione Prisma, lanciato dalla base spaziale europea di Curu nella Guiana francese la notte tra l'8 e il 9 marzo prossimo, è di testare un dimostratore tecnologico dotato di strumenti ottici per il monitoraggio delle risorse naturali e delle caratteristiche dell'atmosfera. Il satellite dell'Agenzia Spaziale italiana studierà la Terra utilizzando un sensore ottico iper-spettrale che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Ci sono favole più moderne di altre, racconti importanti e necessari, che in un certo periodo fotografano e insegnano a grandi e piccoli, unino alla vita di cui si sente bisogno. Oggi le edizioni sonda lanciano la città in fondo al mare, un albo che racconta ai bambini e non solo il tema delle migrazioni. L'appuntamento è a Roma alle 18 alla Feltrinelli di Largo Argentina. Mauro Grimaldi e Spartaco Ripa, gli autori, racconteranno a voce il loro lavoro insieme a Nicola Brotto di Unicef Italia. Ospiti durante l'incontro, l'attore e regista Sebastiano Rizzo, il giornalista ed esperto di fumetto e animazione Luca Raffaelli e la consigliera del primo municipio Sara Lilli. Arriva oggi al cinema l'esorcismo di Anna Grace, film diretto da Diedrich Varrojenko e distribuito da Warner Bros. Un esorcismo difficile si conclude con la morte violenta di una giovane donna. Mesi dopo, Megan Reed sta lavorando al turno di notte in obitorio, quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Da sola nei corridoi del seminterrato, Megan si trova ad affrontare visioni terrificanti e inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca. È uscito il video di Io per te, il nuovo singolo di Venerus, tratto dall'album di debutto A che punto è la notte, pubblicato il 16 novembre per Asian Fake. Il brano, prodotto da Frenetic and Orange, è uno dei punti più romantici del percorso del giovane cantautore, che in queste settimane sta attraversando l'Italia con il tour A che punto è la notte tour, targato Radar Concerti. Io per te apre le porte del mondo di Venerus, l'amore nella sua forma più psichedelica, la passione in quella più eterea, un mix unico e intrigante, esaltato dal video diretto da Andrea Cleopatria. Nello stesso giorno in cui 50 anni fa l'uomo muoveva il primo passo sulla luna, Salmo atterrerà a Genova per il suo terzo Goa Boa. Dopo gli incredibili sold out del suo playlist tour, è attesissimo il 20 luglio all'Arena del Mare, nella meravigliosa cornice del Portantico di Genova. Eclettico, geniale, anticonformista, provocatorio, difficilmente etichettabile, Salmo è oggi sulla bocca e nelle orecchie di tutti e con pieno merito in cima a tutte le classifiche. Ciao!